Ciao ragazzi e ciao a tutte e a tutti, nuovo video blab, finalmente è nulla, non vado da una sola parte però sono un po' in giro e porto a fare una bella passeggiata con me e finalmente andiamo in giro un po' per spararlo, anzi probabilmente devo portarmi un po' il porto ma non ho ancora idea di dove andare, quindi sarà un video un po' così, che avrò un po' risato, perché a tempo vi dico che oggi sono portato a fare analisi, e finalmente ovviamente adesso che non sono andata e oggi mi dovrò portare entro stasera il offerto per le analisi, intanto qui su questo braccio c'era il fosso delle analisi, c'era un po' l'analisi, cioè l'imperario fatto sarebbe un po' che parole e niente, ma come si vuole bene filmata adesso? Allora ho il bastone di seppi in borsa ma non lo vedo da fuori, perché tra l'altro è mezzo rotto, quindi la vostra funzione è niente, quindi non lo so, quindi e non lo so, poi lascia la passeggiata e non ce l'ho, allora qui non posso passare, come vi posso aspettare, Ciao Quindi Allora siamo venuti Spero che ce la c'è Perché non è il caso Non è il mondo Adesso vi faccio un po' con me Ehm Porto la parte Mi piace Soperto che le gambe Non sono più abituata con il film Ogni tanto ho trovato il sole Soperto che la c'è Perché si sgherpa e non so con le cerni Ma si sgherpa e non so con le cerni Ma si sgherpa e non so con le cerni Quindi voglio vedere per spazzare giù Oltre le telecamere E niente Mi sto portando di qui E vedete strati di qui E niente E niente E quindi Soperto che Soperto che Dovano mi arrestare Perché voglio aiutare E riuscimi a attraversare Perché Voglio aiutare di riprendere altre persone Per un problema E niente E niente Amico E niente E niente E niente E niente E xi Allora, non lo so, c'è tanta seconda, non c'è qui. Allora, ecco, stavo andando alla fiera, ovvero al del mercato, e niente, ciao! Ho dato qualche borsa per me, ma non era un problema, non l'ho comprata. Una, perché me l'avevo soldi, anche se ce l'avessi, non me la sono segnata di aprire niente. Perché anche per c'era, preferisco aspettare, tanto al momento c'è questa qua, di borsa. E poi, anche perché va bene così, qui in un momento. Prossimo, questo così. Ciao, ciao. E quindi nulla. Va bene così. Ma chi ne sono? Spero un po' secondo. Dì, sono 30 minuti, ma chi non parla. Va bene così. Una拜拜! La sicurità è la mia, la loro iniziatura io, amo io! No. nuts! Io non so cosa promessi, non ho semplici fatto, però vabbè, niente, era sabbia che mi sembra C'è la zona di che, sono già contenta del registro e ancora non ho combinato per niente, vabbè, e allora, quindi ora, adesso mi viene andando a mostrare le nostre, vedremo sempre come posso, faccio voglia E quindi, io contento di, come dire, diciamo, io contento di, di questa borsa che mi ha avuto tanto a fare comodo e che il nostro spazio è lì, che è l'anna stessa Già, non ho bisogno di un'anna, ma io non ho bisogno di un'anna, ma io non ho bisogno di un'anna Sto conoscendo gente qui nel mio paese, nel lino, queste sono le vetrine che ci sono qui, si è fatta vedere un po' perché sono di fretta, perciò mi posso girare. La giornata mi sto approfittando a girare. Ok, ecco perché. Ok, ecco, ecco perché la giornata non è finita, perché sape' che non è finita, perché non c'è nessuno. Sì, ecco, ecco perché non c'è nessuno. Ok, ecco. tanto quando mi pieta non poteva fare che vanno solo perlo niente se mi vuoto chiamato qui mi vuoto chiamato qui mi vuoto chiamato mi vuoto chiamato mi vuoto chiamato mi vuoto chiamato con la mano di si è grabato molto buono mi vuoto mi vuoi scegliere che spiego mi vuoto mi vuoto mi vuoto in casa mi vuoto mi vuoto mi vuoto mi vuoto mi vuoto non lo vedo, passiazzi ora c'è qualche macchina che non mette sotto guarda, sono andato in diretta e insomma, allora, poco in vento aspetta, secondo me sono andato vicino sono sempre imprevisti, mi hanno capito perché però va bene sapete cosa sono visto? c'è una strada di là, vedete? è tutta recintata, non so poter passare mi fa mirare che passi dall'altra lato è tutto un casino, guardate anche di qua guardate, guardate vabbè, una commenta allora, qua c'è una notte che devo stare attenta la farmi mettere sotto ovviamente e niente la passeggiata non è il massimo però me la sto cavando, diciamo, da tutto sommato che strazzi però assolutamente se non guardo dove in camera però devo guardare dove metto i piedi se non voglio prendere una bella scivolata e già ok, sono già disciunto che resisto e di là non vado perché il mercato è già stato già e quindi niente ora rientro a casa e e ne rientro a casa e faccio un paio di foto aspettate se non metto le mani in mezzo a casa non so aspettate un secondo ok bene ho fatto la portina niente ora dobbiamo prenderla via che si bucca di qui non so se si vede però ecco qua vedete qua c'è una cosa che è un viezzo che si bucca di qui e qui qua e lì c'è un burgone perché allora qua vi devo tenere bene perché non voglio cadere e lo so bene io perché c'è questa fortuna vabbè faccio proprio acqua e niente aspettate un secondo che qui devo fare una portina scisa ok a posto oggi e io ho le due sono vabbè vabbè lì vabbè lì ho finito stessa ed è un tipa quasi il tornare mica di solito e vabbè un po' come si è perdita oggi qua la risposta stavo parlando di nuovo stavo parlando ok sono già da 10 minuti di che ho registrato e vabbè tanti video lupi ci sono per fare lo stesso oggi è lupi ma già non sono uscita sono riuscita però che vi dobbiamo ciao è bella questa cane guardatela bella questa cane bellissima io non so ma come riprendere perché sono il massimo però qualche volta giro la camera per riprendere le immagini perché io non sono il massimo nelle montagne soprattutto e quindi mi devo fare anche chiare però che sta a casa se lo devo fare a fare dei video invece no un punto che devo sempre c'è la spiegazione da questa parte e lo vorrei fare anche da quella però se c'è gente non posso riprendere capite bene ragazzi non posso riprendere dov'è prima di tutto è la privacy è privacy e poi il buonoso ops poi c'è roba che non so come si si confondo che fa scivolare non so come ora niente allora qui sto attraversando vedete c'è un'altra view che ho portato alle poste e qui è nuovo del canale lo sappiate che sono arrivata a portare le poste c'è una propria e poi accanto c'è un oculista un oculista un oculista un oculista non so che parlano di più e poi e niente 14c si no sto guardando quanto sto mettendo a registrare perché non voglio fare il tempo lungo perché poi mi dicono mi dito che no che non lo so tagliare davvero non lo so tagliare tiro pazienza ok sto facendo benissimo con il dito mezzo che bello guarda oltre niente è nulla è nulla adesso vediamo se la materia di macchia che strazio allora vediamo se mi riesce di passare non lo so ok ok non dice ma che stanno dicendo lì non lo so 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 se riesco però voglio provare a fare una specie di stories sul quel luogo di pasqua che li ho make up non vi prometto niente perché quando ne ho fatto la prometto quello mantengo quindi dovete vedere un po' io cosa riesco a fare quindi niente sono affinati fiatone ma va bene lo stesso allora adesso dove passo di qui non lo so sì forse è meglio ok niente ok di qui perché le state smarciate sì adesso mi fermo la coperta e mi allaccio per rispettare perché non voglio le vedete ma eccomi qua guardate io non vedo la massa qua sì questo spettaccio si è lacciata un attimo solo stoppo e torno da voi quindi sì che bella sicuro si è l'acqua è l'acqua non è il massimo però abbiate pazienza se riesco lo taglio sono pazienza la adesso della tante questa pizza mi stia capire fatica di fare video vlog tutto ronfiato vabbè l'acqua stia capire senza l'acqua spettaccio si è l'acqua l'acqua passi ok bene un vento adesso vai a portare un vento a portare perché ne voglio, questo è tanto stanca e mi fanno anche male le gambe, poi mi sta prima con me la voce, quindi andiamo bene, allora, non so se devo prendere o di qua, non ho proprio idea, che bello gli è, non sapevo andare, allora, quanti minuti ho girato? no, vabbè, 18, non so pazzo, vabbè, taglio, taglio, è meglio, certamente il video, ma cosa devo dare, vuole verocizzare, non so, verocizzerò quelle parti, ragazzi, non l'abbiamo inventata se vuoi verocizzata, perché non metto qualche cosa in narrazione, non lo so come fare, già, boh, non lo so, devo vedere un po' come fare, perché il montaggio non è semplice, ecco, a posto, nulla, adesso sto passando per andare a casa, se sentite sottofondo il canino, è perché vicino a qua, in questa via, entrando, non vi dico dopo che è privacy, c'è un cane che abbaia come un pazzo, ma vabbè, è femmina, si sa che i cani così lo fanno, non dico scatenarsi, lasciamo stare le mie stupidaggini, e niente, allora, adesso io entro a casa, e vi preparo un video a metà, perché è tre di vittime, sempre se non sono troppo sudata, si, sono sudata, non importa, lo parlo lo stesso, in gattina di vittime, allora, si, ve l'ho detto, guardate per terra dove metto i piedi, già che sono accaduto, quindi, non lo so, io direi di fermarmi qua, mettere un bel like, di supporto, se sto video vi è piaciuto, e, perché no, commentate, e iscrivetevi al canale, e attivate la campanellina, qualora voi vorreste ricevere un nuovo aggiornamento sul mio canale youtube, ciao, a presto, e, no, non proseguo col video, per esempio, la video diventa troppo lungo, ciao, a presto.